ciao ragazzi e ragazze buonasera a tutti stasera provo da ubk il galletto questo è con miele e rosmarino e poi abbiamo un filetto al cacio e pepe niente raga mo sistema un attimo le cose poi andiamo all'assaggio così lo proviamo vedi questo è un po' liquidina però comunque mettendo la salsa sulla carne mi sta bene eccolo qua comunque insomma media cottura mi sembra un po' troppo mi sembra sangue a me come sembra pure raga allora raga assaggiamo mi fratello è piaciuta la salsetta cioè non è male la carne eh adesso pure è un po' raffreddato è buona buona dai la salsetta potrà venire di meglio è solo che i salsi di cacio e pepe vengono sempre un po' così pronta te l'hanno portata a casa la carne raga diciamo un 7 io lo voglio dare ci vediamo dopo con il pollo allora questo è com'è la cottura diciamo del pollo era umido cioè assaggiamo un po' va col miele base al sette al miele certo comunque siamo assaggio proprio di voi è delicato è soffice è umido è buono è buono non è stoppaccioso si dice bello è un piacere mangiarlo non gli diamo una lira ho sincero non gli diamo una lira invece è buono è veramente veramente buono questa salsetta che sta bene vuoi dire cioè bravi buono 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 gli do un 9 a questo pollo un bk va bene commentate fatemi sapere anche voi cosa ne pensate un bacione a tutti corre più mi trouate hai uguale Leo